Sindaco, operai al lavoro, fermo nei preparativi in vista della riapertura dell'ultimo tratto di Piazza Sant'Alfonso, tra l'altro riapertura pedonale che prelude ai grandi concerti che ci saranno proprio in questa piazza. Sì, già sabato e domenica ci sarà una manifestazione, rosso ma non troppo, ma dopo ci sarà il concerto del Blue Bar, i giorni dei concerti del Blue Bar e tanto altro. Restituiamo alla città anche questa piazza, io amo chiamarla la piazza che non c'è, perché questa piazza fu oggetto di scontro nell'ultima campagna elettorale, qualcuno diceva che non l'avrei mai fatta e quindi dimostrare che poi le cose si fanno e non si dicono solamente è una grande soddisfazione. Una bellissima zona, è diventata la piazza più grande di Francavilla, si respira aria di mare e da venire a vedere e quindi invito tutti i cittadini questa sera a farsi una bella passeggiata per la prima volta sulla nuova piazza Sant'Alfonso. Abbiamo disegnato una Francavilla tricentrica, cioè con tre centri di interesse, uno è questo, l'altro è Piazza Sirena e il terzo è Alforo. La promessa che continuo a fare sempre, quotidianamente, a me stesso e anche ai cittadini è che prima di finire il mandato avrò realizzato questo che era un mio sogno e l'avrò realizzato concretamente.